E' la più importante azienda pubblica del Molise perché da essa dipende l'approvvigionamento idrico delle popolazioni dell'intera regione. E' la Molise Acque che sta attraversando una fase di estrema incertezza e difficoltà a causa dell'assenza di una figura apicale dunque strategica come quella del direttore generale. Tutto è cominciato lo scorso 29 aprile quando il consiglio di amministrazione dell'azienda ha deciso in maniera unilaterale la revoca del contratto con Giorgio Marone, all'epoca direttore generale il contratto in questione sarebbe scaduto il primo gennaio 2017. Il licenziamento è stato impugnato e dunque la vicenda è tuttora aperta dinanzi al tribunale ordinario di Campobasso ma ad allora e sono dunque trascorsi sei mesi il consiglio di amministrazione dell'ente non ha ancora nominato il sostituto. Secondo indiscrezioni la gestione dell'azienda sarebbe affidata all'attuale presidente Piero Neri che a questo punto sarebbe controllore e controllato. Una vicenda che è tornata spesso alla ribalta e di recente con una interrogazione presentata dal consigliere regionale di Grande Sud Salvatore Micone. Non solo, in queste ore la Will ha diffuso una nota inviata al presidente della giunta regionale Frattura, a quello del consiglio Niro e agli assessori competenti con la quale evidenzia i problemi di carattere amministrativo che questa situazione provoca all'azienda non escludendo anche di servizi sul fronte dell'approvvigionamento idrico. Il sindacato sollecita dunque l'azienda Molise Acque ad elaborare un piano industriale per il rilancio, per la gestione ottimale degli acquedotti già esistenti e di quelli in via di completamento. Non solo, chiede che il CDA nomini con estrema urgenza il nuovo direttore generale senza il quale denuncia l'azienda sostanzialmente inoperante con tutte le evidenti e possibili conseguenze sulla funzionalità dell'azienda stessa e sui servizi erogati all'utenza. E forse anche per mettere a tacere le polemiche nate attorno alla vicenda, secondo indiscrezioni il CDA starebbe per nominare il nuovo direttore generale. Si tratterebbe di Sergio Di Vico, ex direttore amministrativo dell'ASREM, attualmente in pensione e che andrebbe a ricoprire l'incarico a titolo gratuito. La nomina potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.